Teniamo così, sì. Eh, bisogna non farsi vedere né tirare fuori i fucili che hanno la pina. Ma se gli colpisco con il corpo a corpo, vale. Ecco, la pistola penso di sì, se lo colpisci in testa non fa rumore, però se rompi il vetro fa rumore. Questa roba al vetro l'ha fatto casino. Ah, la pina. Qualcuno ha la pina, questa. Ok, andiamo. Ma se ci dividiamo? Ah, io vado più i cattini. Ecco ti. No, ce n'è uno davanti a me. Ok, vediamo se la info è corretta. Oh, cosa sta succedendo? Allora, andiamo dietro a me. Allora, ho un po' di fortuna. Ah, i... Non, non, non... I'm on it! Blacklist, perchè non ho finito, devo finire la campagna E io continuo a rimandare Sono arrivata nella villa, quindi devi portare quella là di un salvo Si, però dopo si bloccano No, non so, non so, non so, non so . . . Sì! Get down! We've got a cool meditation letter on the hacking device. It has to be reported on site. We've got to get in copies. It's impossible. Get out of here! Go ahead! ok c'è la camperiamo fin quando non vediamo che qualche cosa si blocca qualche tavolo posso cadere? no non ti puoi suicidare ventiduesimo non sarà quello sotto ancora ma se noi Giovanni se noi ce la camperiamo qua dritto eh aspettiamo che se ne vada il punto però lì pressioni che adesso arrivano eh qua sto facendo una storia bianzo quando stanno in campo? sì sì guarda dietro non c'è il campo non c'è le scale sono non c'è i più non c'è i più This is jammed! You gotta reboot it! Cosa eliminatrice! C'è maato il lì che gioco No mi ho paigliato Je bai un gioco Ah ok sì Che gioco Si è il-cemo sul con il gioco Sì! andiamo va come cazzo è che? io sono dove scampevamo prima ah ok dove dobbiamo andare? vediamo aspettare che finissano fino da dietro dietro io sono 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 come on bring it engage fire shoot smoke him ok 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 oh ok sorry ok 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 c'è un po' I've got a lot of girls and guys, no one important enough for us to use. Suck the CFO. Get the CFO at the party, he was out of coats. Let's look for him, gotta be at that party. Okay guys, we go for the CFO. I'll find him to the cabin, please. Easy on the triggers when you've got civilians around. It's time to try. I'm sure Mr. Garnett will pick up the phone. I'm in search of the CFO, guys. I'm checking the live feed. There's still one, there's still one. There's still one. There's still one. I'm in search of the CFO. Listen, I can put the CFO there. He's down there, let's go from that one. I'm out of fire. I'm in there. Okay. You guys do it? Smoke boss. You've got smoke. 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 You've got. On the ground, I found the CFO, keep running, keep going, keep going, you move, keep running, now it's me. I almost lost the right. Good. Un po' più davanti agli affinzoi nel coso. Ecco 5 secondi. Due. Niente. Non avete qualche ostacolo? Ah non avete 5 secondi. Non potevo andare. Non potevo andare. Ah non potevo andare. 3 minuti arrivo. Quanto? Adesso 2 minuti certo. Ok, mi ha bisogno. Get ready! Eh, ti li ho io che aveva... Eh sì, io ti li ho! no è lungo, vediamo come si va! Un minuto da intanto! No, no, no! Ah, c'è un po' di farne. sul lato, sull'angolo sin testo e spara da parte qua con il filo guardiamo non c'è un po' 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 problema non c'è un po' Sì 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 Vabbagk Sì Vabbagk Sì Sì Ogg! 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 All right guys, check the feeds, he's right there. Ogg! All right guys, check the feeds, he's right there. Cosa? 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 I didn't even know that guy. non ci sono seguimi ehi 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 i Get a move on! Move it! Move it! Get a move on! Get a move on! Get a move on! Get a move on! Get in, you fucker! I'm a survivor, get another assault! The party starts in 30 seconds! Hey! Get a move on! Move it! Get a move on! Get a move on! Move it! Hey! Follow me! Hey! Look at that! Hey! Look at that! Hey! There we go! There's more negotiations! Let's go! They're coming! Go! Go! What's that change? Eh... How do you change the... How do you choose the support? How do you choose the support? I'm going to go! I'm going to go! I'm going to go! No! I'm idaccaved! We've got access! There is a problem, though! Ooh! No! Ah, but it's related to the arm! Huh?! Depends- Depends- lo dobbiamo scendere uno che mi aiuta è che sono qua rilassi c'è uno coltello anche io ahahahahah siamo su e siamo morti, oh diosio ma qualche ostaggio, potete prendere qualche ostaggio? eh, faremo anche a me sai, dobbiamo rincare che? se, temen d' メin, di che fa let's, come on, come on guys, get to the chopper hurry, he can stay follow get ready guys, I'll come in I don't know about you, but I'm not leaving anything behind so worth it use your cable ties and tie them down 2 minuti 40 2 minuti 40 5 minuti 40 Come on guys, get to the chopper These are taken care of Get there Keep it there I love it Oh sh** I have to dash out of here I'm going back for another try I love it I love it, I love it I love it, I love it We're back Where do you go? There is no way I'm hitting the bat I'm too I can't even see Ah p*** Do you buy it? E' un po' di chiudere... ...e' un po' di chiudere... Ah... ...e' un po' di chiudere... Sì, ma alla fine mi sembra che riguarda l'arma Sì, l'ho giudato antiproiettile e roba l'oceano Sì, ma nel senso che il chip con le pistole non è una cosa di vero 10 secondi Fuggi, ma devi andare giù? Ah, qua, un metro, qua Anni, quanto ti ha? Ah, io sono dentro Non capisco dove cazzo si fa Questa è un po' di bloccato un nuovo arco, ma non ho idea Ui, non cazzo, non cazzo, non cazzo Stiamo vincendo sempre di più, eh?